ICI, la più odiata dagli italiani. È l'imposta comunale sugli immobili, la tassa ritenuta più ingiusta dai cittadini italiani. Lo afferma una specifica ricerca svolta dalla Confcommercio e illustrata al Vice Ministro dell'Economia Vincenzo Visco. Gli intervistati dicono che in Italia si pagano troppe tasse e due su tre usano il 30% del reddito per mettersi in regola collerario. Il peso del ICI sul reddito viene avvertito in particolare dalle famiglie con un alto numero di componenti che risiedono in prevalenza nelle regioni del nord-ovest e del meridione.